Dopo la pausa di Ferragosto riapre l'aula del Consiglio regionale della Sardegna e si riparte esattamente da dove si era rimasti, l'ennesimo rinvio del collegato alla manovra finanziaria sull'urbanistica. Ciò che invece non è andato in vacanza è il tema delle prossime elezioni regionali previste per febbraio. A tenere banco in queste settimane ferragostane restano le alleanze politiche. Nel centro-destra, dietro una calma apparente, il governatore Cristian Solinas è impegnato a rinsaldare le spaccature all'interno della maggioranza e, cosa assai più complicata, tre colleghi di partito. Il presidente quindi dovrà fare i conti con Forza Italia e Fratelli d'Italia, che presentano il conto Antonello Peru e Stefano Tunis divenuti una spina nel fianco con Sardegna al centro 20-20, senza dimenticare che le dichiarazioni un po' frettolose in merito all'autonomia della scelta del candidato hanno inclinato gli equilibri con i tavoli romani. A fare la voce grossa è il partito di Giorgia Meloni che, al contrario di Solinas, spingerebbe la candidatura del sindaco Truzzo o, in alternativa, si fa sempre più insistente il nome di Luca Saba, attuale direttore della Col di Letti. Non va meglio nel centro-sinistra. La coalizione del PD, che non si riunisce da due mesi, sembrerebbe orientata alle primarie per scegliere il candidato, mentre il Movimento 5 Stelle regionale, che notoriamente non è mai stato favorevole alle primarie, questa volta potrebbe invece aderire, dopo le azioni a loro poco gradite, fatte dall'ex ministro dei governi Conte Alessandra Todde. Le strategie sono iniziate e nei prossimi 5 mesi si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi.